La senatrice a vita Liliana Segre, ora cittadina onoraria di Narni, lo ha deciso all'unanimità il Consiglio Comunale. Nelle motivazioni contenute nell'ordine del giorno proposto dal sindaco Francesco Derevotti e dal presidente dell'Assemblea cittadina Giovanni Rubini viene spiegato che si riconosce l'assoluto valore per la coscienza civile della popolazione narnese e di tutti gli italiani della testimonianza di vita della senatrice Segre e le sue testimonianze e i suoi altissimi meriti nel campo sociale. L'atto è stato portato in Consiglio dopo che la commissione pari opportunità con la presidente Maria Cristina Angeli lo aveva sottoposto a sindaco e presidente del Consiglio Comunale chiedendone il voto in Assemblea.